Metteteci un segno nazista davanti a ogni ristorante che richieda il Green Pass Segue le regole, allora potrà scappare Ma non si può scappare C'era l'ingresso della batteria C'è anche le patologie E queste informazioni non ci dirà mai che questo è dovuto alla vaccinazione I know that the five star pop He cannot become a parliament member because he had a criminal record Otherwise you will be robots within 10 years Se no diventerete dei robot Perché questi sogni ovi stranieri è meglio che io che a vita Lui è un grossissimo progetto Per fare una buona cosa, perché un italiano non è buono Come? 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 Come?